Un pomeriggio molto interessante, ricco di domande che sottolineano come ci sia una grandissima attenzione verso questa nuova programmazione. Oggi abbiamo parlato di investimenti produttivi quindi abbiamo cercato un po' di condividere con la platea quelle che possono essere appunto delle visioni in futuro, quindi immaginare assolutamente degli investimenti per le aziende a 360 gradi perché noi abbiamo comunque un bando che è stato appena chiuso, l'Ex 4.1 e siamo però già pronti a presentare il nuovo che ha cambiato nome perché si chiamerà SRA01, però di fatto diciamo che la sostanza è la stessa. Abbiamo fatto un'analisi dei risultati del vecchio bando cercando un po' di capire appunto quelle cose che hanno avuto un maggiore impatto positivo, quelle che hanno funzionato di meno. Sicuramente l'aspetto che è emerso in maniera chiara è che dobbiamo mettere mano alla semplificazione dal punto di vista proprio di accessibilità della burocrazia che spesso è un elemento diciamo di contrasto al fine di svolgere al meglio gli obiettivi di questi bandi. Quindi oggi soprattutto questo è stato l'argomento, cioè tutte quelle misure per una veloce rendicontazione, per una facilità nell'accesso al bando e ai bandi. Abbiamo parlato anche di cronoprogramma dando un po' delle certezze soprattutto sui bandi che usciranno in modo tale che anche le aziende possono pianificare gli investimenti.